Grazie, pace e buonasera a tutti. Babbo Mario di ritorno dopo una settimana di riposo con l'amore mio. No, non riposo, avevamo qualcosa da fare per cui non ho potuto andare in diretta. Comunque eccoci qua, iniziamo stasera una serie chiamata Gli Otto Vincitori dell'Apocalisse. Questo video è l'introduzione e sarà il primo della serie di nove sul libro dell'Apocalisse. Oh, tanti di voi sanno che il libro dell'Apocalisse non è il mio libro preferito della Bibbia. Beh, Marchio, come? Oh, ragazzi, ognuno ha il suo preferito. Ci sono troppe cose che non capisco e a a me piace capire quello di cui sto parlando. Non mi piace parlare soltanto perché è un concetto, è una dottrina, è una tradizione, non mi piace. Io devo capire e devo essere convinto di quello che sto dicendo, se no non lo dico. Quante volte persone mi chiedono un'opinione su un versetto dove è quello? Io dico non lo so, non lo so. Ci sono quelli che sanno tutto. Va bene, quelli va bene, quelli sanno tutto dalla Sacra Bibbia alle cartine in fondo, alle mappe. Sanno tutto. No, io invece no, io purtroppo invece no. Sono solo quello che mi dice lo Spirito di Dio. Per cui se devo capire, allora studio, faccio, eccetera, è prima o poi lo Spirito di Dio me lo dice. Altrimenti, come ad esempio con il libro dell'Apocalisse, io non ci capisco bene. L'agnello con sette corna e con sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio. Ho sempre pensato che di spiriti di Dio ce ne fosse uno solo, Spirito Santo. Poi il dragone con sette teste, dieci corna, con dieci corone sulle corna. Poi la bestia che sale dalla terra con due corna, come un agnello, ma che parla come un dragone. La stella chiamata Assenzio che brucia come una fiaccola e che cade sulla terra. Una stella che cade sulla terra? Una donna vestita di sole con la luna sotto i piedi? Il mare, i fiumi e le sorgenti che diventano sangue? Le locuste, che sembrano cavalli, con facce da uomo, capelli da donna e denti da leone? E degli altri cavalli, 200 milioni, eh, sono parecchi per essere esatti, con teste di leone e code di serpenti, eccetera, eccetera, eccetera. Visioni simboliche? Indubbiamente. Allegorie? Senz'altro. Metafore? Certamente. Ma lascio ad altri interpretarle. Molti, molti predicatori, specialmente in questo periodo, parlano degli ultimi tempi, diagrammando gli eventi, identificando i protagonisti e profetizzando il futuro. E che Dio li benedica? Io no. Io leggo Prima Giovanni 2,18, che tra l'altro, con tutto il dovuto rispetto, Prima Giovanni è lo stesso autore dell'Apocalisse. Giovanni. Prima Giovanni 2,18, che dice questo, dice Fanciulli, è l'ultima ora. Fanciulli, è l'ultima ora. Statemi a sentire quello che sta dicendo Giovanni. Giovanni dice, Fanciulli, è l'ultima ora, 2.000 anni fa. Fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, l'anticristo deve venire e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. A Giovanni, ma l'ultima ora vicino a 2.000 anni fa. Sentite come dice, come la mette la Bibbia della gioia. Dice, cari figli, è giunta l'ultima ora. Voi sapete che deve venire l'anticristo, colui che è contro Cristo. Ebbene, sappiate che già hanno fatto la loro apparizione molte persone di questo genere. Da ciò riconosciamo che la fine del mondo è vicina. A Giovanni, vicina, 2.000 anni fa? Ma Marchion non li vedi i segni della fine del mondo? Forse. Ma c'è, ragazzi, rendetevi conto che nel corso dei secoli c'è stata molta, molta, molta più tribolazione di quella che c'è adesso. L'impero romano. Ti pigliavano i cristiani, li attaccavano ai pali, li verniciavano di catrame e gli davano, li accendevano, ancora non l'ho visto, sulla via dei fori imperiali a Roma, ancora non ho visto che il governo fa così. Li davano la mangiare ai leoni. Insomma, un pochino più di tribolazione del Green Pass, mi sembra che, no? Tribolazione, l'inquisizione. Ragazzi, lì la chiesa romana ti metteva a rogo, ti metteva a rogo. Ok. Scusatemi, devo fare tre cose allo stesso momento. Ok. L'inquisizione. La peste bubonica. Avete ricordato la peste bubonica? Il covid, il covid. Amore mio, ma la peste bubonica ha fatto più di 20 milioni, ha decimato metà, metà Inghilterra. Non mi ricordo quanti, 50 milioni di morti con l'influenza spagnola. C'è già stata la tribolazione. Le guerre mondiali. Eh ma marchiò i terremoti, le inondazioni, i disastri. Ok. Amore mio, ricordati che l'unico motivo per cui sembra che ci siano più disastri oggi, piuttosto che ieri, è solo perché ce ne rendiamo conto, perché ce lo fanno sapere i media. Oggi sappiamo ciò che è successo in Polinese, in Ecuador, in Mongolia, in Islanda, pochi minuti dopo che è successo, solo perché attraverso l'internet sono cambiati canali in informazione. Non c'era il telegiornale nel primo secolo a darci le ultime notizie sul terremoto avvenuto in Peru. Non esisteva Facebook nel quinto secolo per informarci dell'alluvione nelle Filippine. E non esisteva l'istituto sismologico nel 1200 per avvisarci della tsunami che ha colpito l'Indonesia. Può darsi che questi siano gli ultimi tempi? Può darsi. Non dico di no. Può darsi. Può darsi che l'avvenuta di Cristo sia imminente? Può darsi. Giovanni, leggete la Bibbia, diceva che Gesù Cristo, alcuni dicono che è già venuto. Giovanni. Giovanni diceva che la fine del mondo è vicina, duemila anni fa. Quindi rilassiamoci un attimino. Può darsi. Può darsi che l'avvenuta di Cristo... speriamo, speriamo che torni e metta un po' di saggezza in questo mondo impazzito. Può darsi. Può darsi che il rapimento della Chiesa sia prossimo? Può darsi. Lo sappiamo di certo? Eh no. Gesù ha detto ma quanto a quel giorno e a quell'ora, fra parentesi nel greco epoca, quell'epoca, nessuno li conosce. Negli angeli del cielo, nel figlio, ma solo il padre. Marco 13, 32. Quindi per quanto riguarda questo libro dell'Apocalisse pieno di simboli, ombre, visioni, allegorie, io preferisco trovarci la buona novella. Eh, Marchio, la buona novella nell'Apocalisse? Sì, amore mio, sì, è da tutte le parti. Basta saperla identificare. Faccio solo un paio di esempi, Apocalisse 1, 5. Apocalisse 1, 5. Dice, Giovanni ha le sette chiese che sono nell'Asia. Grazie a voi. Grazie a voi. Apre tutte le... Grazie a voi. E pace da colui che è, che era e che ha da venire. Se la cerchi, la buona novella, la trovi da tutte le parti. Pace da colui che è, che era e che ha da venire. Quindi Giovanni sta parlando dell'eternità. È, era e sarà eternità. La vita che riceviamo è la sua, è la vita di Cristo. Ed è eterna, non temporanea. Buona novella. Giovanni continua. E dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Ok, sette. E da Gesù Cristo, il testimonia fedele, il primo genito dai morti. Primo genito dai morti. Se lui è il primo genito, allora ci sono anch'io, da qualche parte, nella lista. Lui è il primo genito, io sarò il quattordici miliardesimo genito, però ci sono anch'io. Eh, lui è il primo genito, io, Mario è il dopo, però vuol dire che ci sono degli altri. Buona novella. E il principe dei re della terra. A lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Ah, nota bene. Prima ci ha amati, sporchi, lerci, sozzi come eravamo, poi ci ha lavati. Buona novella. Non ha detto vatti a dare una ripulita, vatti a lavare, vatti a mettere, prima di entrare in casa. No, ha fatto entrare in casa il figlio del prodigo, lercio, zozzo, puzzolente di maiali com'era. Prima ci ha amati e poi ci ha lavati. Buona novella. Ci ha fatto re e sacerdoti per Dio e padre suo. A lui sia la gloria e il domino nei secoli e nei secoli. Amen. Apocalisse 3,20. Io sto alla porta e busso. Io sto alla porta e busso. Il creatore dell'universo sta alla porta del tuo cuore e ti chiede il permesso di entrare. Ti chiede il permesso, dipende da te. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, queste cosa sono? Sono le opere di Giacomo, secondo capitolo. Anche i demoni credono, non sai che la fede senza le opere è morta. Perché? Perché devi aprire la porta. Cioè non basta quello che ha fatto Dio. Devi anche metterci la tua opera. Cos'è l'opera? Pregare, credere, chiedere, invocare il suo nome, aprire la porta. Come ha fatto Rab alle spie ebrei, ha aperto la porta e le ha fatte entrare. Come ha fatto Abramo con Isacco, l'ha messo sull'altare. Ma l'ha fatto una volta. La salvezza la fai una volta e basta. E poi non la fai più. Bussi la porta, apri la porta, Gesù entra dentro e fa, io entrerò da lui e cenerò con lui ed è lì con me. Nel Medio Oriente cenare insieme era un sigillo di un patto fatto fra i due. Buona novella. Un piccolo salto perché sennò non finiamo più. Apocalisse 21, 5 e 6. Colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi, perché queste sono parole veraci e fedeli. E poi mi disse ancora, è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, a chi ha sete io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Nota bene, non chiederò di ravvedersi, di confessare i suoi peccati e cambiare vita. No, lui chiede, io do. Tutto è compiuto, nota bene, è fatto. Io faccio tutte le cose nuove, è fatto, è finito, è compiuto. E a chi ha sete io darò in dono, non dice a chi ha sete io chiederò di smettere di fare, di peccare, di ravvedersi. No, a chi ha sete io gli darò bere. Ah, gloria a Dio, buona novella, buona novella. Lui chiede, Gesù dice, lui mi chiede, io gli do. Tutto è compiuto. Giovanni 19, 30, eternità. Perché? Perché Gesù vive, io vivrò per sempre con lui. Io sono l'alfa e l'omega, il principio la vite e il principio la fine. Perché Gesù vive, io vivrò per sempre con lui. Ho parlato a una conferenza ieri dove hanno cantato un canto di lode in inglese che io adoro da anni e anni e anni. Che è così. Che tradotto vuol dire, siccome Gesù vive, posso guardare al domani. Siccome Gesù vive, la paura se n'è andata. Siccome io sì, sì, lo so che il mio futuro è nelle sue mani, che la mia vita vale la pena di essere vissuta, perché? Siccome Gesù vive. Specialmente in questi giorni di pandemia di paura, dove dal Canada, dall'Australia, dall'Inghiterra, dall'America, dall'Italia, dall'Africa, tutti cercano di farti credere che devi temere l'ennesima variante. temi, abbi paura, c'è l'ennesima variante, devi fare un altro vaccino, devi farti il venticinquesimo. Tutti vogliono farti credere che prima o poi... muori, muori, basta. Se non ti vaccini, muori. Se non hai Green Pass, non ci sarà un domani. Alleluia. Perché vive? Io posso guardare in faccia al domani, perché lui vive, io non ho paura. Gloria a Dio, ragazzi. Ma vuoi farti il vaccino? Ma fatelo. Ma non te lo vuoi fare? Ma non te lo fare. lascia che sia Dio a decidere, non i governi. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Quindi, nel libro dell'Apocalisse, come del resto dappertutto nella Bibbia, incluso il Vecchio Testamento, ci sono tanti, ma tanti, ma tanti altri versetti che contengono la buona novella della grazia di Dio. Tra questi, gli otto versetti che parlano di chi vince, dei quali parlerò in questa serie. Ma Mario, come fai a dire che chi vince è una buona novella? Chiaramente vuol dire che per ottenere le promesse devi stringere i denti, resistere fino in fondo e sperare di riuscire a vincere prima che arrivi la fine. No, amore mio. No, amore mio. Quello è quanto afferma il religionismo, che è da sempre stato impregnato di paura, requisiti, obblighi e carenza di fede, da secoli di tradizione morta. La parola greca tradotta vincere, chi vince, vincere, negli otto versetti che tratterò nell'Apocalisse, è la parola nicao, nicao. E la troviamo tradotta così 28 volte, incluso prima Giovanni 5, 4 e 5, che dice tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Il credente ha già vinto. Se credi hai già vinto. Ma il passaggio che mi interessa, che ci interessa di più degli altri, è Romani 8, dal 32 al 37, che dice questo. Che diremo dunque circa di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Ricordati che la risposta alla domanda Dio mi ama non sono le preghiere esaudite, non sono il fatto che con la bacchetta magica della preghiera Dio fa quello che gli dici di fare. No, la prova che Dio ti ama è la croce e dagli scaturisce tutto. Se Dio ti ha amato, tanto, da non risparmiare il suo proprio figlio, ma darlo per tutti noi, ma come non ci donerà anche tutte le cose con lui, in lui? I premi che ricevi non sono le mansioni, le case, le ville, le collane d'oro, le corone, i vari premi, no, il premio è uno e si chiama Gesù Cristo. Basta. E se tu pensi che possa esistere un premio superiore a Gesù Cristo sarà meglio che ti dai una lavata di cervello perché non hai capito niente del Vangelo, non hai capito niente dell'amore di Dio, non hai capito niente della grazia di Dio, non hai capito niente di niente, non hai capito niente di questo libro, non hai capito niente. Non può esistere un... Nel libro Apocalisse Gesù dice alla fine, dice, ascolta, io vengo e la mia ricompensa è con me. Io sono la tua ricompensa. Nel libro della Genesi quando Dio... Aspetta, fammi vedere se la trovo. Genesi 15. Ecco, dopo queste cose, Genesi 15.1, dopo queste cose la parola dell'Eterno fu rivolta in visione di Abramo, dice, non temere Abramo, io sono il tuo scuro e sono la tua ricompensa. Grandissima, io sono la tua grandissima ricompensa. Io sono la tua ricompensa. Non hai bisogno di ricompense. Io sono la tua ricompensa. Come Dio dice ad Abramo, io sono la tua ricompensa. Grandissima ricompensa. Gesù dice a noi, io vengo e la mia ricompensa è con me. La ricompensa, il premio è Gesù Cristo. Vabbè, andiamo avanti. Quindi, certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come ci donerà, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Sai chi è l'unica persona che può accusarti? Dio non vuole. Il diavolo non può. Gli altri possono fare quello che vogliono, ma non serve a niente. L'unica persona che può accusarti sei tu. Se tu non ricevi per fede quello che Dio ti dice nel suo amore, che la tua salvezza è eterna, che non la potrai mai perdere, che la tua figliolanza è eterna, che non la potrai mai perdere, che se sei figlio, figlio sei, figlio resterai per il resto dell'eternità, che la tua vita è eterna, non temporanea, che il tuo perdono è eterna, non temporanea, non limitato, non condizionale, che l'amore di Dio è incondizionato, se tu non credi in quello e accetti, allora il diavolo arriva e ti accusa e tu accetti l'accusa e ti senti accusato, perché Dio è colui che ti giustifica. E amore mio, una volta giustificato da Dio, giustificato sei e giustificato resti. Ma Paolo va avanti, chi è colui che li condannerà? Ma chi può condannarti? Chi è colui che può condannarti? Ma chi ti può condannare quando Dio ti ha detto sei innocente? Il pastorino giù della comunità di 22 persone giù in fondo al vicolo? Ma facci il tuo piacere. Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato, egli ha la destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada, il vaccino, il covid, il governo, il green pass, la malattia, no! Come sta scritto? Per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello. questo è una citazione del Vecchio Testamento, ma adesso senti come conclude Paolo per quello è, ma in tutte queste cose, in tutte queste difficoltà, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Noi siamo, voce del verbo siamo re, noi siamo, non saremo, noi siamo più che vincitori. Adesso state a sentire perché quelli che hanno problemi con la parola ipergrazia avranno problemi anche con la parola ipernicao, che vuol dire ipervincitori, più che vincitori, supervincitori, quindi ipergrazia non vuol dire altro che più che grazia. C'è una grazia sola? Sì, ma c'è la grazia che non finisce mai, che se tu pecchi qua la grazia arriva lì, se tu pecchi qua la grazia arriva lì, qualsiasi cosa tua quella iper, è sopra. E la stessa cosa in questo versetto qui che dice in tutte queste cose noi siamo uppernicao, ipervincitori o più che vincitori. Perché? Perché noi ce lo meritiamo, no, in virtù di colui che ci ha amati. Ed ecco il cuore della buona novella del tutto compiuto. Non abbiamo da lottare per conquistare la vittoria, è già fatto, non abbiamo da resistere per mantenere la nostra salvezza. È già fatto, non abbiamo da dubitare se ce la faremo o no ad entrare nel regno dei cieli. È già garantito dal sangue di Cristo, una volta per sempre. 2 Corinzi 1,22 dice questo. Dio ci ha sigillati. La parola greca è la parola sfraghizzo, sfraghizzo ed è tradotta letteralmente con opporre, apporre, scusate, apporre il proprio nome su un oggetto per determinarne la proprietà. Apporre il proprio nome su un oggetto per determinarne la proprietà. Se io scrivo su questa Bibbia il mio nome, non so se ce l'ho sulle altre ma non su quello, se io dovessi scrivere su questa Bibbia il mio nome, determinerebbe il fatto che questa Bibbia appartiene a me. Avrei sfraghizzato, avrei sigillato, avrei messo un timbro di proprietà su questo libro. È la stessa cosa su di te, è la stessa cosa su di me. Lo Spirito Santo ti mette il timbro di proprietà sullo Spirito e dice questo appartiene a me. Questo qui appartiene a me. Questo non appartiene a nessun altro, appartiene a me. l'ho creato io, l'ho comprato io, gli ho dato il nome io, appartiene a me, è mio. Poi va avanti e dice e ci ha dato la caparra, parola interessante nel greco, a Rabon, a Rabon, che tradotto letteralmente è il denaro che viene dato impegno al momento di un acquisto come caparra che l'intero importo verrà senz'altro successivamente versato. E quindi questa caparra cos'è? È lo Spirito nei nostri cuori. Quindi quando sai di avere lo Spirito nel tuo cuore sai di essere stato sigillato da Dio, appartiene a lui e quella è la caparra per il resto dell'eternità. O come la mette l'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, delle lettere di Paolo, 2 Corinzi 1 dal 20 al 22 dice questo. Seguite nella vostra Bibbia, come vi dico sempre, nella tradizione tradizionale, l'annuncio dice questo. 2 Corinzi 1 dal 20 al 22, nelle promesse di Dio fatte all'uomo attraverso Cristo non c'è un microgrammo di esitazione. Tutte le sue dichiarazioni finiscono con un sonoro così sia. E l'eco di quell'asserzione rimbomba continuamente anche nelle nostre vite. Ora questo Dio che ci ha fatti uno con suo figlio e ci ha mandati a predicare il suo Vangelo ha firmato il rogito di proprietà nei nostri cuori e ha pagato la caparra con lo Spirito Santo una volta per sempre. E questo è solo un anticipo. Il bello è ancora da venire. E amore mio, ciò che è stato acquistato, firmato e sigillato da Dio, nessun uomo può deacquistare, defirmare o desigillare. Nessun uomo può cambiare il fatto che sei stato acquistato, firmato, sigillato da Dio. Alleluia. Chiudo con questo post che ho pubblicato un paio di giorni fa. Il religionismo dice la salvezza è una corda che pezzola dal cielo. Attaccati bene e mi raccomando non perdere mai la presa. La buona novella dice la salvezza è la sua presa su di te e Gesù non ti lascerà mai andare. Questa è la sicurezza dell'amore di Dio. Nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano e di tutti quelli che mi hai dato non ne ho perso neanche uno. Gloria a Dio, ragazzi, che possa la realizzazione della meravigliosa grazia e amore di Dio possa penetrare nelle vostre menti, nei vostri cuori e esplodere con la realtà di un Dio che non vi abbandonerà mai, non vi lascerà mai, che non si ricorda più dei vostri peccati, che ha cancellato il peccato dalla vostra vita, che vi ha resi limpidi, immacolati, puri, lavati, giustificati, perdonati, salvati per tutta l'eternità. Lasciate che questo possa scendere ed esplodere nei vostri cuori e sarete a posto. Non avrete mai più problemi, nessuno potrà mai accusarvi perché quando qualcuno vi accusa tu dici scusa, magari non sono un figlio buono come dovrei essere, magari non sono un figlio ubbidiente come dovrei essere, magari non sono un bravo figlio come dovrei essere, ma amore mio figlio sono e figlio resto, figlio sono e figlio resto. Per coloro che non parlano siciliano, figlio sono e figlio resto. Non puoi farmi meno figlio di quello che sono, perché o sono figlio o non lo sono. I credenti sono figli, nati da Dio, una volta per sempre. Che Dio vi benedica, oggi cos'è? Domenica, domenica, mercoledì ci sentiamo e parleremo di Apocalisse 2,7, il primo versetto che parla di chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. Un abbraccio, un bacione da Babo Mario, vi voglio bene, ciao, ci sentiamo mercoledì.